E ovviamente i colpi bassi si intensificheranno, siamo vaccinati. Prima, seconda, terza, quarta e quinta dose. Francesco, non leggere niente. Dovremmo sopportare le menzogne, i colpi bassi. Che cosa serve? Non ti preoccupa. Sui ravi illegali, no? Non volete che la gente si diverta? Non volete che si possa far ballare i ragazzi? E anche qui ci sarebbe molto da dire sull'isolamento. L'Italia è isolata. Ragazzi, l'Italia è isolatissima, è una tragedia. In questa nazione si devono mettere al mondo dei figli. Difenderemo il vino, la carne, i salumi dagli attacchi di quelli che ci vogliono far mangiare la polvere di cavalletta perché è meglio un buon bicchiere di vino della polvere di cavalletta. Eh, questa era la sua amica Meloni. Guarda, io posso dire una cosa, però glielo voglio dire questo. Io penso che, proprio sono molto deluso. Perché, allora, Meloni non è mai stata mia amica, io l'ho vista una volta in un ruolo istituzionale. Però uno pensava, io l'ho avuta la simpatia appunto per una donna giovane che arriva con le sue forze alla presidenza del Consiglio e che si impu... Cioè, a me piace anche questo modo di essere diretta. Ma questa roba non si può vedere. La Presidente del Consiglio di un grande paese, ma che si mette a fare le vocine a una convention? Allora, io credo che, ho sempre creduto e continuo a credere, che quello che sarà è esattamente quello che è stato con i Cinque Stelle, esattamente quello che è stato con Salvini e che è oggi con la Meloni. Cioè, è la politica ridotta a grande fratello, dove va di moda un protagonista, dove quel protagonista arriva al governo, non riesce a fare assolutamente niente, aumenta i toni polemici, poi esagera i toni polemici e poi crolla. E se il Paese continua a passare da una cosa a una... e questa responsabilità non ce l'ha nessuno tranne i cittadini italiani, perché li votano loro, chiaro? Cioè, quando io sono stato a Lumezzani, ho detto, guardate, noi possiamo dire quello che vi pare, però l'avete votato voi al 60%, Salvini. Poi ve ne siete scordati, poi prima avevate votato i Cinque Stelle, poi ve ne siete scordati, il resto è la Meloni e poi ci scorderemo della Meloni. La verità è che noi, siccome lo Stato non lo sentiamo nostro, lo affidiamo a gente che se avessimo un bar ereditato da un'azienda, non glielo daremmo mai da gestire. E questo è il nucleo del problema italiano, è il fondamento del problema italiano e succederà identicamente con la Meloni, perché non è dato in nessun Paese dell'Occidente maturo che una persona che arriva a fare la Presidente del Consiglio faccia quelle sceneggiate che ha fatto la Meloni lì, ma per una ragione di ridicolo, prima ancora di appropriatezza. Grazie. 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 Grazie.